L'onore, lei è la cantante di Sailor Moon, di Rossale e di tantissime altre, qui ospite L'onore, Cristina D'Avena, grazie per la Cristina, facci sognare, calma a te, ma che bella ingegnienza, la nostra partecipazione perché sono veramente tantissimi, balliamo di una bimba che vive sulla cima dell'Olimpo, e lei si chiama Polo, e dai, Polo, Polo, tu vieni a guarda Tu vieni sull'Olimpo, e tu stai, la bellinina che tu sti liberi, sei tu, sei tu, no, no, Polo Allora ragazzi, non vi canterò tutte le undici sigle, ne canterò una, però una speciale Attenzione ragazzi, quando tornate a casa stasera dovete dire, Cristina oggi mi ha detto una cosa, c'è una parola magica in questa sigla, che è Puffafero, provate un po', come? Non Puffafero, vedo qualcuno che fa Puffafero, no, Puffafero, una parola magica, voi quando ad esempio siete arrabbiati, invece di dire una parola, siete Puffafero, Puffafero, passa tutto, passa tutto, voi non pensate a cantare Puffi, ok? Puffafero, per qualunque situazione, bello, appunto, Puffafero, proviamo? Vai! Via! Insieme! I Puffi sanno che sono sé, nel fiori a campo a te, madre natura pensa sempre a noi, e di Puffi sono tutti all'uncissuoi Allora, al mio tre, voi maschioni fate il mio urlo perché adesso arriva un personaggio, un certo tipo, quindi se voi non urlate, ve lo manco esce, ve lo vedo molto, quindi ci siete? Ci siete il mio tre? Un urlo disumano? Ok, ok? Uno, due, tre! Uno, due, tre! Un urlo disumano? Ok, ok! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Grazie per la visione!